Scarpette da ginnastica per i piccoli atleti in pista pronti a partecipare alla dodicesima edizione dell'Atletica Fascuola. 480 gli studenti delle quarte e quinte classi di tutti gli istituti comprensivi della città che venerdì 6 maggio alle 16.30 si incontreranno allo stadio Marco Tomaselli per cimentarsi nella corsa, nel salto e lungo, nel lancio del vortex e nella staffetta. Due settimane di allenamenti hanno infatti consentito agli atleti in erba di partecipare alla fase finale della gara organizzata dalla FIDAL in sinergia con il Comune e il Panathlon di Caltanissetta. È un progetto che già si svolge da alcuni mesi perché abbiamo allenato attraverso la competenza dei tecnici FIDAL questi piccoli atleti allo stadio facendogli provare le specialità dell'Atletica Leggera. Domani nella manifestazione finale, conclusiva e finale dell'evento promozionale avremo veramente il piacere di ospitare a Caltanissetta Filippo Randazzo campione italiano di salto e lungo nonché medaglia di bronzo agli europei di Svezia che vestirà nelle Olimpiadi di Rio i colori della nazionale italiana. Questa manifestazione ormai dura veramente dal 2003 e mi ricordo allora con l'allora presidente Mastro Simone quando venne in ufficio a propormi l'idea sposai immediatamente quest'idea e per fortuna abbiamo riscontrato nei dirigenti delle scuole, nei docenti delle scuole immediatamente un grandissimo entusiasmo ed allora siamo ogni anno riusciti a portare sempre allo stadio una marea di ragazzini e di genitori, di nonni, zii perché fondamentalmente alla fine al di là dell'aspetto tra virgolette agonistico, competitivo è una grande festa per tutti ed è un bel esserci. Tre diverse istituzioni si mettono insieme per consentire a bambini delle quarte e quinte elementari di affrontare una disciplina che tra l'altro è anche facile perché servono soltanto un paio di scarpette per poter essere affrontate e dei bravi istruttori che li formano alle diverse attività interne all'atletica stessa e quindi si chiuderà questo percorso che già ha avuto due mesi di svolgimento proprio domani pomeriggio a Pian del Lago con una grande festa, le premiazioni e uno spirito d'onore di cui presto saprete. Fair play, agonismo e sana competizione sono i valori che da sempre il Panathlon promuove soprattutto tra le giovani generazioni. Il Panathlon Club nella sua mission è proprio quello di divulgare gli ideali etici dello sport quindi l'etica nello sport, parliamo di fair play rispetto quindi dell'avversario, la lotta al doping, la legalità, quindi favorire l'integrazione tra i popoli. Ecco per noi membri del Panathlon International è questa la mission, sono questi i valori etici dello sport.